Oltre mille persone strappate alle fredde acque del canale di Sicilia in meno di due giorni. Si sono concluse nel migliore dei modi le operazioni di salvataggio a margine del primo grande flusso di migranti dell'anno nuovo. Solo ieri erano state ben quattro le imbarcazioni individuate davanti le coste lampedusane intercettate dalle forze aeronavali della marina militare. 823 persone sono state strappate al mare, prelevate rispettivamente dalle navi urani e sirio e dalle motovedette della capitaneria. Tante le donne recuperate, così come i bambini, con le operazioni di sbarco ultimate solo alle prime ore dell'alba. La maggior parte dei migranti era partita alla volta della Sicilia proprio negli ultimi giorni dell'anno appena trascorso, con le modeste imbarcazioni salvate dalle coste africane e asiatiche, dall'Egitto e dalla Tunisia, dal Pakistan e dall'Iraq. Saranno invece ancora ore d'attesa per i 136 immigrati s'accorsi ieri della nave San Marco della Marina Militare. Per loro il calvario del mare si chiuderà domani mattina quando saranno fatti sbarcare al porto di Augusta, proprio lì dove ieri sera la Zaffiro aveva trasportato altri 233 naufraghi soccorsi a capodanno dalla stessa San Marco.